Il progetto che abbiamo presentato oggi si chiama Sunplus Agritec ed è un progetto per portare a provare la luce del sole in ambiente sotterraneo per la coltivazione di piante superiore e microalghe utilizzando sistemi dinamici di collezione del sole, fasci di fibre ottiche e sorgenti led ad alta efficienza per bilanciare quando necessario la luce naturale con quella artificiale. L'idea è nata di partecipare qui perché abbiamo visto che ci può essere una grande opportunità, noi rispetto ad altri progetti che ho visto presentare siamo una società che si occupa prevalentemente di tecnologia applicata all'agroindustria e nello specifico di fotobiologia applicata, quindi abbiamo pensato che potesse essere una buona opportunità per portare a più visibilità le nostre idee.